Vado un po', ti aiuto? Sì, 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 no, ma anche per far vedere... Pia, 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 pia... Messe gira per fare ecco, così, grazie. Pia, 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 pia... Sì, 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 ma adesso anche così, avanti alla chiesa, dai, almeno a voi le anche. Sì, sì, però voglio anche fare l'unità di cuore da quella parte. Per me? Quindi da questa parte la picciata per qua. No, vediamo con un palo. Pettiamo un palo. Pettete là. Sì, sì. Però voglio anche cambiare l'ospettiva, capito? Anche perché... Volevo fare... Vedi? Ecco, ho cercato...